Musica Arrivano gli ispettori del Ministero della Salute all'interno della Casa di Riposo di Soleto con 88 anziani contagiati dal Covid-19 e 17 deceduti Riapre a Castellaneta l'ospedale Sampio, Gugliotti, ora servono nuovi reparti I farmacisti dopo l'annuncio del premio sulla vendita della mascherina a 50 centesimi sono sul piede di guerra Serie A, caos sul protocollo medico, il legge pensa alla ripresa, frenata per la Serie C Buon pomeriggio, arrivano gli ispettori del Ministero della Salute all'interno della Residenza Sociosanitaria La Fontanella, la RSA di Soleto nel Salento con 88 anziani contagiati dal Covid-19 e 17 deceduti Intanto la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta Sono arrivati alle 9.30 i carabinieri dei Nassi insieme ad alcuni operatori dell'ASL di Lecce presso la RSA La Fontanella di Soleto in collegamento remoto anche gli ispettori del Ministero da Roma Nella Casa di Riposo dove dal 21 marzo ad oggi la pandemia coronavirus ha provocato 17 decessi e 88 contagi si trovano attualmente ospiti 21 anziani, 17 risultati negativi e 4 positivi con sintomi lievi L'ispezione odierna è frutto di un'indagine amministrativa e parallela a quella già avviata dalla Procura di Lecce e punta a verificare se siano state rispettate le indicazioni diffuse dal Ministero e dall'Istituto Superiore di Sanità per la tutela degli anziani ospiti da accertare anche quali siano le cause che abbiano portato a 17 il numero delle vittime e cosa è accaduto dal pomeriggio del 24 marzo alla mattina del 27 quando la struttura su ordinanza del Sindaco è passata nelle mani dell'ASL e ora guidata, almeno fino alla fine del mese, dal medico Silverio Marchiello nei giorni scorsi nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura di Lecce sono stati iscritti tre nomi nel registro degli indagati l'amministratore delegato Don Vittorio Matteo la direttrice Federica Cantore e il responsabile sanitario Cattello Mangione i reati ipotizzati sono diffusione colposa di epidemia e abbandono di incapaci è riaperto oggi nella sua praticamente totalità l'ospedale San Pio di Castellaneta nel Tarantino chiuso per evitare il diffondersi del contagio i sindaci della zona però chiedono nuovi reparti in particolare la rianimazione e il punto nascite tutti i negativi, i quasi 500 tamponi effettuati e poi una completa sanificazione delle aree da questi presupposti riparte l'ospedale San Pio di Castellaneta da oggi ufficialmente riaperto con tutti i suoi servizi sono soddisfatti i sette sindaci degli altrettanti comuni del versante del Tarantino che avevano sollecitato una maggiore risposta da parte dell'asile di Taranto ma adesso chiedono qualcosa in più che si pensi al punto nascite e anche alla rianimazione servizi essenziali per fare di questo ospedale una vera eccellenza la cautela resta massima ma si tratta di un passo importante qui c'è un'utenza di circa 150.000 persone da gestire con cauto ottimismo nella città di Valentino si tira un primo sospiro di sollievo in queste ore tornano a casa anche i reparti di oncologia proprio nel plesso San Pio di Castellaneta ma anche nel Moscati di Taranto lasciando quindi la clinica Villa Verde temporaneamente scelta in quanto il primo presidio è stato chiuso all'8 aprile e il secondo invece è stato dedicato al Covid-19 su questo ospedale bisogna puntare insiste il sindaco di Castellaneta Gugliotti nonché presidente della provincia il sindaco Borracci invece di Palagianello rivolge un invito alla cittadinanza bisogna affidarsi di questo ospedale di questi medici per farlo funzionare il fatto che si chiudesse ovviamente ha fatto andare noi in ansia a nome di tutti i nostri cittadini quindi in un'ottica di collaborazione con la AS la collaborazione non significa che non ci possono essere momenti anche di confronto però siamo tutti dalla stessa parte remiamo tutti nella stessa direzione tutelare la salute dei cittadini quindi proprio con il direttore sanitario della AS di Taranto oltre che ovviamente col direttore generale ci siamo più volte confrontati perché quando loro ci hanno comunicato la chiusura del presidio all'interno di una strategia che era di contenimento dell'epidemia ovviamente una scelta fatta da loro con i loro tecnici che hanno deciso di passare ad una strategia più radicale quindi di chiusura e igienizzazione di tutto l'intero plesso noi subito siamo intervenuti e abbiamo preteso ma ripeto in termini costruttivi di conoscere la data di riapertura e soprattutto gli interventi in calendario che dovevano portare quindi ad una riapertura in sicurezza è solo un ripristino logistico perché mai è stato dismesso quell'attività interdisciplinare e gli assist mi sono stati offerti dai due che mi hanno preceduto dal dottor Colacicco direttore sanitario dell'AS e dal sindaco per confermare la fiducia che bisogna avere verso questo nosocomio anche perché il covid ha voluto mettere in realtà quel sistema che noi avevamo costituito con il collega noi ci vedevamo periodicamente per la discussione dei gruppi di patologia che è un'articolazione della rete oncologica il primo decesso da covid nel Tarantino il sindaco di Ginosa fa il punto della situazione è stata una giornata abbastanza pesante un nostro concittadino per causa di questo maledettissimo virus oggi è venuto a mancare c'erano delle patologie pregresse ho sentito i familiari una situazione veramente drammatica sento un po' anche il peso del ruolo in questi casi perché non si vorrebbe mai avere come sindaco avere a che fare con queste brutte notizie questo deve servire un po' anche come messaggio per tutti quanti noi per capire l'importanza del momento il numero degli attuali contagiati è un numero assolutamente molto basso stiamo intorno alle 5 persone secondo quelli che sono i miei calcoli perché abbiamo, diciamo così sapete, uno dei tanti problemi di questa emergenza è che ci sono dei dati che non corrispondono e l'ospedale di Mottola potrebbe diventare un ospice intanto è stata attivata la fisioterapia lì dove già da alcune settimane si trattano i pazienti post-covid chiuderebbe al meglio il cerchio delle strutture sanitarie tarantine l'ospice che potrebbe realizzarsi all'ospedale di Mottola un'anticipazione fornita alla nostra redazione dal primario di oncologia Tarantino Visconti intanto nel presidio Umberto I del comune a sud della Murgia è stato attivato proprio in queste ore il servizio di fisioterapia per i pazienti del post-covid coloro che hanno superato la fase acuta della patologia ma che essendo ancora positivi necessitano di tempo e cure per negativizzarsi la malattia associata alle terapie somministrate e alla postura a cui i malati sono costretti per diverse settimane spiega il dirigente responsabile dell'area riabilitativa Michele Fabiano determina una ripresa più lenta causando perdita della massa muscolare e difficoltà a riprendere una corretta coordinazione motoria al momento della dismissione i pazienti presentano difficoltà nella deambulazione e nei passaggi posturali autonomie che vanno necessariamente recuperate al momento l'equip è formata da nove operatori specializzati in riabilitazione La sezione provinciale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Taranto esprime la propria soddisfazione per il programmato ritorno alla piena operatività della struttura complessa di oncologia medica e del reparto di ematologia dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto ad annunciarlo è l'oncologo Salvatore Pisconti storico direttore del servizio oncologico collocato proprio all'interno del nosocomio che nel corso della fase 1 dell'emergenza Covid-19 è stato interamente dedicato al trattamento dei pazienti colpiti dalla pandemia emozioni e sofferenza nel reparto di oncologia dell'ospedale Perrino di Brindisi ha lasciato il segno la vittoria della signora Maria malata oncologica che ha superato la sua battaglia contro il coronavirus un forte messaggio di speranza che ha toccato anche Saverio Cineri direttore dell'oncologia dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi è presidente dell'Ion è stata sicuramente un'emozione importante, bella, intensa dal punto di vista medico che era vicina anche alla professione saluta dalla signora Maria nel momento della sua dimissione dal reparto Covid gestito dal dottor Gatti che in un atto simbolico mi ha riaffidato la paziente per iniziare la terapia un momento particolarmente intenso per il reparto di oncologia da sempre impegnato in battaglie difficili ma che non si arrende mai anche in questo nuovo momento complicato sia dal punto di vista fisico che mentale il nostro reparto è un reparto Covid-free dai primi di marzo quando avevamo avuto alcuni ricopri di pazienti Covid tutto il personale sta gestendo in maniera a mio modo di vedere molto importante e molto intensa in questa fase della pandemia abbiamo dovuto mettere in atto delle accortezze diverse questo per l'adeggenza i pazienti quando arrivano per il tampone si attende l'esito del tampone sono in istanze singole questo ovviamente ha ridotto la capacità e la capienza del reparto noi non siamo fermati mai l'oncologia in Italia non si è mai fermata i pazienti in trattamento stanno continuando le terapie praticamente dappertutto siamo in una fase nuova in cui riusciremo spero anche a recuperare con la vita dei nostri colleghi chirurghi tutte quelle patologie che non sono di sapere diagnosticate in questi tre mesi andiamo avanti e cerchiamo di lavorare sempre al meglio perché come ne ripeto sempre non vorrei che il Covid ci facesse dimenticare una cosa importante è un broncoscopio completo di monitor e 15 tablet e telefono sono stati consegnati questa mattina nel nuovo reparto di terapia intensiva dell'ospedale Perrino di Brindisi si tratta di 5 tablet destinate alla rianimazione due ciascuno per il reparto di medicina interna e quattro per i centri post-covid di Ceglie Messabica, Cisternino, Fasano e Mesagne l'iniziativa è nata dall'idea di un gruppo di giovani professionisti di Brindisi e provincia e veniamo al bollettino regionale 10 casi positivi in Puglia questo è il dato emerso ieri il dato più basso dall'inizio dell'emergenza purtroppo si registrano almeno fino a ieri altri 6 decessi 10 casi positivi in Puglia è il dato più basso dall'inizio dell'emergenza purtroppo si registrano altri 6 decessi sulla base delle informazioni e del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montonaro sono stati registrati 984 test per l'infezione da Covid-19 i 10 casi sono così suddivisi 3 nella provincia di Bari 2 nella provincia Bat 2 nella provincia di Brindisi 3 nella provincia di Foggia nessun caso nelle province di Lecce e Taranto sono stati invece registrati 6 decessi 2 in provincia di Brindisi 1 in provincia di Bat e 4 nella provincia di Foggia dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 56.976 test sono 641 i pazienti gueriti 2.912 sono i casi attualmente positivi il totale dei casi positivi Covid-19 in Puglia è di 3.958 i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL hanno come sempre attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie finalizzate a rintracciare i contatti stretti e allora il capitolo dedicato ai rapporti tra la politica e la CEI la fase 2 si fanno in queste ore più insistenti le ipotesi di un passo indietro del Premier Conte per quanto riguarda la riapertura delle celebrazioni delle liturgiche nelle chiese bisogna fare presto sollecita l'Arcivescovo di Taranto Monsignor Santoro non alle messe ma sì ai funerali a patto che ci siano al massimo 15 persone contemporaneamente la fase 2 studiata dal Governo Conte per contrastare il virus non piace ai Vescovi italiani la CEI infatti ha redatto una nota che si intitola proprio il disaccordo dei Vescovi il rammarico della Conferenza Episcopale Italiana sta proprio in questo che ci troviamo di fronte a una evidente limitazione della libertà di culto la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana sin dall'inizio è stata favorevole ad accogliere le gravi restrizioni della fase 1 la celebrazione domenicale non è solo dell'Eucaristia non è solo la comunione ma è il momento in cui la comunità si riunisce si potrà tornare nelle fabbriche negli uffici entrare nei negozi e andare in giro per i parchi tuttavia ammessa no le criticità sono ineliminabili secondo i tecnici del Comitato Scientifico per la riapertura già dal 4 maggio la partecipazione dei fedeli comporterebbe uno spostamento di un numero rilevante di persone e contatti ravvicinati durante l'Eucaristia ma l'Arcivescovo Tarantino avanza una soluzione concreta avevamo pensato, ipotizzato e sostenuto la possibilità di piccoli gruppi certamente di persone con le distanze e poi un servizio di accoglienza all'entrata che quando si vede che le persone sono tante fino ad un certo punto blocca Santoro che è anche presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro la giustizia e la pace è presidente del Comitato Scientifico e organizzatore delle settimane sociali dei cattolici italiani auspica un rapido ravvedimento fa notare come precedentemente ci si è subito mossi per riaprire ad esempio i tabacchini che ci sia una revisione è molto importante proprio perché possiamo così svolgere meglio l'esercizio anche della carità della condivisione perché la stretta della povertà è grandissima è molto grande e quello è un momento in cui noi siamo vicini alla gente ecco è di queste ore l'ipotesi da fonti di Palazzo Chigi che il tutto si possa rivedere entro il 18 di maggio e quindi da quella data in poi poter riaprire come valuta questa ipotesi oppure bisognerebbe partire già da subito e dal 4 beh io desidererei che si aprisse anche prima da Taranto a Lecce un fedele per banco e si può celebrare a dichiararlo l'arcivescovo di Lecce Monsignor Michele Seccia Ancora niente messe aperte al pubblico fino al 4 maggio il nuovo DPCM illustrato dal Premier Conte è stata una doccia fredda per i fedeli cristiani che continueranno a non poter prendere parte alle celebrazioni secondo quanto stabilito per la fase 2 infatti le uniche messe per le quali sarà consentita la partecipazione dei fedeli saranno i funerali che saranno aperti ad un massimo di 15 congiunti dura la risposta da parte dei vescovi italiani abbiamo sentito Monsignor Michele Seccia della curia di Lecce che si è schierato con il resto dei vescovi d'Italia contro la scelta del Premier Giuseppe Conte personalmente ho detto ai parroci come primo punto che le chiese devono restare aperte perché chiunque decide desidera entrare in chiesa per un momento di preghiera lo possa fare tranquillamente secondo nel momento in cui dovessero esserci delle celebrazioni che possono anche farsi a porte chiuse ma in una chiesa e le chiese abitualmente sono abbastanza ampie se un gruppo di parrocchiani o invitati dal parroco o di spontanea volontà desiderano partecipare e telefonando al parroco sanno a che ora il parroco celebra ecco ci sono tanti banchi e quindi una persona per banco anche lo si è fatto per i pullman non si può fare per le chiese allora passiamo alla cronaca minacce di morte a due avvocati ed un politico i poliziotti di Gallipoli hanno denunciato un 42enne è stato individuato il presunto autore delle minacce scritte sui muri e non solo della città di Gallipoli il 14 il 19 marzo le scritte ingiuriose hanno riguardato gli avvocati Luigi Suez e Fabrizio Ferilli il 21 e il 23 aprile invece l'ex parlamentare nonché ex presidente della provincia di Lecce Lorenzoria e l'istituto di vigilanza Veilialpol le indagini affidate alla dottoressa Monica Sammati dirigente del commissariato di polizia di stato di Gallipoli hanno permesso di individuare attraverso un confronto calligrafico tra le scritte rinvenute a marzo ai danni dei due liberi professionisti e quelle rinvenute nei giorni scorsi gli agenti hanno anche analizzato i filmati delle telecamere presenti nella zona dove è stata rinvenuta la bomboletta spray utilizzata per le ultime scritte i poliziotti hanno denunciato un 42 del posto incensurato spinto da un rancore maturato per circa 10 anni nei confronti dell'istituto di vigilanza Veilialpol per un'assunzione non andata a buon fine l'uomo era convinto che nessuno gli avesse dato un aiuto per realizzare il suo desiderio nonostante a suo dire avesse chiesto l'intervento delle autorità e dei professionisti fatti oggetto anche loro delle scritte minacciose E ancora cronache i carabinieri della stazione di Fasano hanno tratto in arresto per violenza e minaccia pubblico ufficiale resistenza e lesione ubriachezza un 41enne di origine pakistana in Italia senza fissa dimora censito in banca dati e si era impossessato di un'autovettura nel parcheggio del centro commerciale Marco Stuni 29 anni di Brindisi si trova ora agli arresti domiciliari a seguito della sentenza emessa dalla GIP del Tribunale di Brindisi i carabinieri invece della stazione di Celle Messapica hanno tratto in arresto un 22enne del luogo per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti denunciato invece a Francavilla un minore voleva andare in un'altra comunità ma danneggia gli arredi a Pallegianello invece arrestato un 25enne per reati di danneggiamento ed estorsione continuata cambiamo a pagina parliamo delle mascherine le mascherine del comune di Lecce sono state distribuite senza intoppi polemiche invece per quelle a 50 centesimi le mascherine sono diventate essenziali nella vita quotidiana di ognuno di noi ed è importante reperirle in farmacia in questi giorni sono state distribuite dall'amministrazione Salvemin attraverso la protezione civile alle classi più deboli vedremo se sono state tutte le farmacie le hanno ricevute e l'ultimo decreto ha previsto anche che per leggere farmacie debbano vendere ad un prezzo imposto di 50 centesimi ma sarà possibile il comune ha distribuito le mascherine da dare gratuitamente sono arrivate? Sì, sono arrivate già il giorno stesso che è stata comunicata questa iniziativa Ce le fai vedere ne è ancora qualcuna a distribuire? Sì, sono delle mascherine chirurgiche Sì, sì sono arrivate Sono state distribuite? Sì Ce ne sono ancora ma sono state distribuite Sono a norma tutto regolare è giusto? C'è stata difficoltà nella distribuzione? No nel mio punto vendita nessuna difficoltà Per quello che prevede l'ultimo decreto quindi la vendita delle maschine a 50 centesimi a tutti i richiedenti secondo voi è una cosa fattibile? È una cosa sicuramente fattibile però a mio personale parere non nel modo in cui è stata comunicata tutte le farmacie e parafarmacie si sono rifornite con dei prezzi decisamente superiori rispetto a quelli che ha indicato il governo Quelle da vendere a 50 centesimi a noi ne hanno fatto una spedizione di quelle cinesi che avevano dovuto mandare indietro perché non avevano alcun tipo di certificazione Ora trovare queste mascherine da vendere a 50 centesimi che siano certificate non sarà facile aspettiamo che ci diano indicazioni in merito Queste sono quelle fatte dalle industrie italiane che si sono riconvertite che hanno adeguato i macchinari a fare mascherine quindi stiamo vendendo queste sono anche ravabili anche per aiutare un po' l'Italia in questo momento E parliamo sempre del mascherino meglio del caos i farmacisti ottengono il ristoro abbiamo ascoltato a tal proposito un rappresentante Il governo prova a mettere una pezza sulla questione mascherine a farmacie e parafarmacie infatti sarà garantito un ristoro dallo Stato per permettere loro di vendere a prezzi non superiori a quelli massimi imposti cioè 50 centesimi una scelta che però non fa felici i titolari che si sono ritrovati vittime di una scelta che mette questi importanti avamposti sanitari in cattiva luce davanti alla propria clientela La situazione è molto complicata perché ovviamente è stata fatta questa comunicazione senza che nessuno ci avvisasse nessuno che ci dicesse che cosa bisognava fare e verso cosa andavamo incontro e quindi da questa mattina praticamente le mascherine a 50 centesimi almeno per noi sono totalmente introvabili Proprio la tutela dell'immagine del farmacista è una delle principali preoccupazioni dei titolari di queste attività Assolutamente sì purtroppo è comprensibile lo stato d'animo delle persone in quanto ovviamente si sentono quasi truffate magari di aver comprato nei giorni scorsi o nei giorni passati una mascherina chirurgica a 1,50 euro a 2 euro a seconda di come ogni farmacia o parafarmacia possa averle acquistate per poterle rivendere Noi sicuramente non siamo attualmente nelle condizioni di poterlo vendere a quanto ha detto il Premier Conte E dopo quasi due mesi di stop forzato per l'emergenza coronavirus il Consiglio regionale pugliese tornerà a riunirsi lunedì prossimo 4 maggio alle 10.30 con collegamento da remoto in videoconferenza E ora parliamo della sicurezza per dipendenti e cittadini ovvero del trasporto pubblico a legge I trasporti pubblici dovranno adeguarsi alle nuove normative anti-covid le linee guide prevedono che venga assicurata l'igienizzazione e disinfezione dei mezzi su base quotidiana e la sanificazione periodica dei veicoli prevista l'installazione ove possibile di dispenser di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani e proprio in questa direzione SGM ha già predisposto i primi interventi sui propri mezzi Abbiamo limitato abbiamo limitato l'ingresso agli utenti soltanto nella parte centrale dell'autobus e quella posteriore abbiamo inibito l'accesso della porta anteriore per far sì che comunque il conducente non abbia contatti con l'utente all'interno dell'autobus comunque abbiamo limitato anche la zona diciamo adiacente alla box dell'autista con questo cartello così come un divieto dall'interno in modo che i passeggeri non vengano da questa parte Quindi da questa parte non potrà venire nessuno i passeggeri rimarranno di là? Sì rimarranno da quella parte e si serviranno delle due porte la centrale e la posteriore sia per l'ingresso sia per l'uscita E per la vicinanza tra un posto e l'altro? Ci adegueremo quanto prima Per la sanificazione come vi organizzerete? Tutti gli autobus vengono sanificati ogni giorno quelli che vanno in servizio Secondo lei sarà complicato mantenere questo adesso target insomma anche di pulizia? Beh il disagio c'è ma comunque noi facciamo il possibile quello che si può fare poi è chiaro che dovranno verificare altre situazioni Al momento stiamo tutelando la salute del conducente che comunque lui deve svolgere un servizio e necessità di avere almeno un isolamento dall'utenza dall'affluenza per i passeggeri dovranno limitare certamente il numero degli ingressi e vedremo come fare Notizia Flash il presidente della provincia di Lecce Minerva scriva al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiarando stabilizzazione a tempo indeterminato per i nostri lavoratori contributi sugli affitti partono i pagamenti da parte dell'amministrazione Melucci come anticipato nelle scorse settimane dalla sindaco di Taranto Melucci l'amministrazione ha fatto in modo di accelerare il più possibile la procedura per quanto riguarda l'erogazione dei contributi sugli affitti 2018 ed ora le dichiarazioni di Annalisa Chirico giornalista e scrittrice di origine francavilesi a margine delle dichiarazioni di Vittoria Feltri sul Sud intervenuta nel corso di un programma televisivo hanno fatto irritare diversi meridionali in particolare i suoi concittadini di Francavilla Fontana lo scontro tra Annalisa Chirico giornalista e scrittrice di origine francavillese e Luca Telese sul Sud dopo le dichiarazioni di Vittorio Feltri a Nonnella Arena hanno fatto irritare diversi meridionali voci indignate si elevano in particolare della sua città Francavilla Fontana dove vivono i suoi parenti qui ha frequentato il liceo classico diplomandosi a pieni voti prima di trasferirsi a Roma e laurarsi in scienze politiche la politica è una sua grande passione fin da subito la Chirico ospite di Massimo Giletti a Nonnella Arena sulla Sette in riferimento alle offese che il direttore di Libero aveva rivolto ai cittadini del Sud Italia ha sostenuto che un popolo debole economicamente rischia di essere moralmente inferiore scatenando la reazione di Telese e del conduttore Massimo Giletti la giornalista nel corso della puntata difeso il direttore di Libero Vittorio Feltri ha il diritto ha detto la Chirico di esprimere ciò che vuole ha posto un tema vero sui meridionali perché un popolo che è economicamente più debole e più lento alla lunga rischia di essere anche moralmente inferiore la giornalista ha proseguito con morale intendo la laboriosità di un popolo la voglia di fare di un popolo di intraprendenza chi è abituato a vivere con reddito di cittadinanza diventa più fiacco c'è una parte del Sud che è anche più pigra sulla sua pagina social la Chirico ha cercato di chiedere il senso delle sue dichiarazioni io sono pugliese e amo il Sud che merita lavoro non redditi di cittadinanza parole che non sono bastate a calmare gli animi proprio dei suoi concittadini Domenico Attanasi presidente del Consiglio Comunale di Francavilla prova sgomento e imbarazzo per le affermazioni di Annalisa Chirico una meridionale che in diretta televisiva si è spinta fino a definire moralmente inferiori meridionali andando ben oltre le fanaticazioni di feltri Attanasi parla di delirio Nicola Cavallo consigliere comunale di Televiva attacca la Chirico per Anna Maria Padula ex assessore e docente di lettere la Chirico ha generalizzato la grande raccontando un Sud che forse esisteva quando lei dopo il liceo è andata via per la docente che insegna lo scientifico e il giudizio morale espresso dalla Chirico che è una ferita sui social la polemica non si placa l'orgoglio dei meridionali sarebbe stato così ferito per queste voci fuori dal coro e confronto su diritti ma anche su libertà nella nuova puntata di diritti a casa Emma Bonino ospite su Facebook da parte dell'assessore comunale Sergio Tatarano libertà acquisita negata compressa diritti e battaglie in parte vinte altre ancora tutte da definire il ruolo della donna delle donne il sessismo in sintesi in generale la libertà di questo l'assessore comunale di Franca Villa Fontana Sergio Tatarano ed Emma Bonino hanno discusso live in diretta nella puntata Facebook di diritti a casa formato originale ideato da Tatarano che tra ospiti e quarantena ha innalzato l'asticella del confronto via social la Bonino ospite eccellente ha affrontato attualità e storia senza al suo solito banalità senza scorciatoie senza rincorrere nulla che non sia legato ai ideali radicali ideali radicali abbiamo visto per oscillare molto spesso da una parte all'altra chi andava a prendere l'aperitivo perché doveva magari cercare di smorzare la tensione chi dall'altra parte magari ha cercato di inizialmente di chiedere la chiusura poi l'apertura di tutto ecco insomma in questa situazione di caos oggettivamente il presidente del consiglio ha avuto delle responsabilità grosse delle difficoltà direi oggettive anche nella gestione della situazione è evidente che dal punto da tutti i punti di vista compreso quello umano tutti vorremmo uscire non è che c'è qualcuno più spiritoso di altri o più irrequieto di altri dopo più di un mese perché tutto è successo me lo ricorderò come uno dei miei compleanni più indimenticabili perché l'otto marzo era il mio compleanno passato in casa ovviamente quindi tutti vorremmo uscire questo non è che ce n'è uno di più uno di meno poi c'è chi fa pesare di più le conseguenze economiche chi fa pesare di più le conseguenze sanitarie ovviamente chi ha avuto parenti o amici morti è più sensibile quindi trovare un equilibrio non è stato facile con qualche errore di comunicazione secondo me non necessario ma che è sfuggito di mano diritti a casa funziona onore all'idea al concetto alla libertà che rivendica pensiero persino su facebook persino da casa persino in quarantena e drastiche misure di intervento per quanto riguarda il servizio telegram e i quotidiani nel servizio di giuseppe andriani niente più giornali pirati su telegram la piattaforma di messaggistica che era stata presa d'assalto dai furbetti del web che riuscivano a smerciare in una maniera estremamente facile da fruire i quotidiani ma non soltanto dopo la denuncia della federazione italiana editori giornali e dell'agicom e un primo successo della procura di Bari che aveva avviato un'indagine che ha aperto un'inchiesta stimando danni per l'editoria di 670 mila euro al giorno quasi 250 milioni all'anno è stato notificato il provvedimento di sequestro a 5 indirizzi mail riconducibili ai rappresentanti legali di telegram società che ha sede a Dubai proprio da uno di questi indirizzi mail la risposta alla procura di Bari in inglese sono stati bloccati 20 canali web su telegram gli iscritti a tali canali il cui più popoloso contava quasi 200.000 utenti e di 435.224 persone difficile però risalire colpevoli del furto di copyright l'applicazione telegram risulta sviluppata dalla telegram LLC con sede in Dubai società nota per proteggere i dati e la privacy degli utenti allo stato attuale non sono identificabili gli amministratori dei singoli canali ha spiegato la procura proprio perché telegram risultava il sistema più semplice e quello più sicuro per chi aveva messo in piedi un vero e proprio sistema di truffa peraltro con una facilità incredibile per chi scaricava il quotidiano o il libro soprattutto da smartphone il provvedimento di telegram che spiega di non aver bloccato un solo canale perché non trovato e quindi probabilmente rimosso già in precedenza spiega come l'app di messaggistica possa intervenire al contrario di quanto fatto in precedenza qualcuno sarà costretto a tornare in edicola e in ogni caso è finito il tempo dei giornali pirati su telegram in attesa tristemente che la truffa si riorganizzi hanno compiuto 105 anni nello stesso giorno e nello stesso paese San Vito dei Normanni ci spostiamo nel Brindisino un uomo e una donna nati alla vigilia della prima guerra mondiale protagonisti di un record di longevità e di lucidità e servizio nella prossima edizione intanto a Castellaneta è partita è stata data il via alla campagna anti-zanzare per le prime pulizie che ricadono proprio in questo periodo solitamente quest'anno bisognerà attendere resta infatti un punto interrogativo in merito alle ville al mare tuttavia qualcosa è certo le zanzare non si fanno fermare nemmeno dal Covid-19 così proprio in queste ore a Castellaneta e nella sua marina partono i primi interventi della campagna di disinfestazione il programma curato da Ciclat MSA società che è in gestione il servizio di igiene urbana della città di Valentino prevede 12 interventi da aprile fino a settembre divisi equamente tra il borgo e la fascia costiera di disinfestazione antilarvale antialare deblattizzazione e deratizzazione inoltre prima novità di quest'anno ci saranno cinque interventi straordinari che interesseranno specificamente i canali di bonifica delle campagne di Castellaneta le attività si svolgeranno nella notte a partire dalle due ma le novità non si fermano qui la campagna anti-zanzare sarà integrata con la distribuzione gratuita di apposite pasticche larvicida ai privati proprietari di ville con giardino il comune invita durante le operazioni a riporre le derrate alimentari all'interno delle abitazioni ritirare l'eventuale bucato e tenere chiuse porte e finestre è importante allora segnarsi queste date gli interventi interesseranno rispettivamente il borgo e la marina il 26 e 27 aprile 24 e 25 maggio 22 e 23 giugno 20 e 21 luglio 9 e 10 agosto 6 e 7 settembre i canali di bonifica 9 maggio 20 maggio 24 giugno 29 luglio e 2 settembre è tutto per questa edizione non cambiate canale tra poco a seguire lo sport con i colleghi Giuseppe Andriani e alle ore 15 lo speciale approfondimento coronavirus è tutto buon pomeriggio